ben ritrovati amici di tuttomotori con la suzuki e con la simar car di reggio emilia sono di fianco la suzuki swift in versione ibrida vi ricordo che suzuki può offrirvi in questo momento tre diversi modelli alimentati e mossi da questi sistemi mild hybrid sono dei 1.2 che ricevono appunto di cilindrata 1.2 che ricevono l'aiuto del generatore elettrico quindi vi permettono in fase di accelerazione di avere un supporto elettrico e quindi ridurre drasticamente i consumi oltre ovviamente essere il più possibile eco friendly e quindi decisamente ecologiche le nostre suzuki partendo dalla suzuki swift che abbiamo qui di fianco per poi passare anche la suzuki ignis e alla suzuki baleno godono di questa tecnologia e questo cosa significa in condizioni di utilizzo misto vetture che realmente riescono ad arrivare a punte di quasi 25 chilometri con un litro di carburante quindi vetture molto facili da gestire soprattutto molto economiche queste nostre vetture sono tutte accompagnate da prezzi decisamente interessanti per via poi del rapporto dotazione accessori che compongono questi automobili ma soprattutto sono accompagnate da promozioni molto interessanti e voi potreste entrare già nel mondo ibrido con 13.600 euro per la suzuki baleno hybrid quindi una vettura che ha un prezzo molto decisamente accattivante vi permette appunto come dicevo prima di avere dei costi di gestione molto bassi avere libero accesso in tutte le zone a traffico limitato godere di particolari anche incentivi che agevolano l'utilizzo in centro e quindi grandi vantaggi rapida occhiata per i modelli suzuki oltre a queste promozioni legate al librido i modelli normali ovviamente è sulla nuova vitara il nuovo vitara appunto arriva in una versione nuova anche che si aggiunge ai più famosi vitara 1.6 arriva nella versione 1.4 turbo benzina un motore capace di sviluppare 140 cavalli con una tecnologia booster jet cosa vuol dire è un turbo iniezione diretta quindi un turbo benzina con dei consumi da diesel praticamente sono macchine che appunto nonostante dispongano potenza e regalino prestazioni di tutto rilievo hanno dei consumi molto contenuti la nostra vitara booster jet 1.4 ora arriva anche in un'enedita versione soprannominata in omaggio anche al mondo motociclistico suzuki quindi una livrea particolare che appunto si distingue per qualche accessorio che danno un po più di grinta diciamo e ovviamente interessano il mondo fuoristradistico per sottolineare ancora un po di più la nostra vitara dato che questa versione è praticamente dotata di trazione integrale quindi è una 4x4 vi ricordo tutta la gamma suzuki a partire da vitara due ruote motrici o quattro ruote motrici disponibile diciamo con motori benzina agpl oppure turbodiesel può essere vostra con particolari promozioni con prezzi a partire da 17.500 euro quindi grandi occasioni in tutti i modelli veniteci a trovare presso la Sivarcar saremo ben lieti di farvi provare le nostre vetture da Gianfranco Spagni e Sivarcar una rivederci alla prossima puntata Grazie a tutti